Un caro saluto a tutte e a tutti. Ben 11 anni fa, era il 2008, ero ancora Ministro del Lavoro nel secondo governo Prodi, ho promulgato il Decreto 81, quello definito da sempre testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Da quel momento in poi si sono succeduti tanti governi, sono stati fatti degli interventi parziali che in alcuni casi hanno un po' depotenziato il livello delle tutele previste. In ogni caso quello che non è stato fatto è completare le deleghe, si dice che oltre la metà di quelle deleghe è ancora inattuata. Tra queste ce n'è una a mio avviso molto importante, la cosiddetta patente a punti per la qualificazione delle imprese, soprattutto nel settore dell'edilizia. Si tratta di un meccanismo analogo a quello della patente, in base al quale se un'azienda commette delle infrazioni, un pagamento che non sia trasparente, un'applicazione distorta delle regole degli appalti, il tralasciare le norme per la sicurezza viene penalizzata. Si tolgono i punti e quando arrivi a zero non puoi più partecipare agli appalti sia pubblici che privati. Quindi è una misura che vuole mettere un po' d'ordine nel settore a partire da quello dell'edilizia. Detto questo noi pensiamo che sia giusto, come è stato fatto al tavolo del confronto fra governo e sindacati, riprendere questo tipo di argomento. Si dice cambiare il decreto 81, a mio avviso bisognerebbe soltanto attuarlo. La patente a punti non è una cosa che nasce oggi, è una cosa che esiste già nella legislazione. Si tratterebbe in qualche modo di attuarla, in modo tale che il tema molto importante delle morti sul lavoro venga affrontato. C'è un leggero incremento, va governato e soprattutto non bisogna mai abbassare la guardia. Se vogliamo la qualità del lavoro, nella qualità c'è anche la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.